Un blog, un portale che poi si è saputo declinare in tantissimi altri mezzi, multimedialità quindi è un po' la parola d'ordine, del Trentino dei Bambini, trasmissione tv, sito internet, libri e partecipazioni in varie realtà. Silvia lascio a te raccontare in cosa consiste il Trentino dei Bambini. Ok, siamo un pochi ma buoni, quindi l'importante direi che è questo. Tu stai qui vicino a me, così facciamo un po' di scena. Allora, il Trentino dei Bambini, in realtà il Trentino Alto Adige dei Bambini è un progetto che è molto inerente a questo festival proprio perché è una delle poche realtà a livello nazionale che ha veramente unito le nuove tecnologie, la partecipazione dei cittadini diventando una vetrina molto importante proprio per il territorio e per tutte le realtà che si occupano appunto di famiglie e bambini. Questo è il logo e da qualche anno si è ampliato e è diventato anche una vetrina dell'Alto Adige. È un progetto che è nato nel 2013 e che si declina in diverse versioni. È innanzitutto un sito web, un sito web che conta 3.000 utenti al giorno circa e che ha diverse peculiarità. Da una parte ha un'agenda che permette a tutti i genitori sia a Trentini che in visita in Trentino di scoprire tutti gli appuntamenti interessanti sia per quanto riguarda le fattorie sia per quanto riguarda le passeggiate, gli appuntamenti legati ai musei piuttosto che altre realtà culturali. E poi c'è la parte home page dove nel blog principale noi raccontiamo noi perché poi siamo un gruppo, vedremo il team che fa parte di tutto il progetto raccontiamo soprattutto le esperienze, quindi abbiamo raccontato tutte le malghe, le fattorie, le passeggiate, tutti i grandi eventi del territorio e pure quelli piccoli. Infatti a me piace sempre ricordare che il Trentino di Bambini è diventato una vetrina soprattutto per le realtà più piccoline, quelle che non trovavano la possibilità di essere viste dalla tv, dai giornali, che non avevano grandi visibilità. Che spesso sono più a misura di bambino magari? Esattamente e magari spesso e volentieri non hanno la possibilità di fare promozione a livello proprio economico piuttosto che non sanno neanche quali sono i canali comunicativi per salire alla ribalta. Dopodiché ci sono le sezioni fisse che sono quelle che appunto vediamo nella parte alta dello schermo in rosa e lì sono proprio radunate tutte le sezioni che noi andiamo a testare personalmente e diciamo sempre che ce ne sono ancora un sacco e chissà quanto finirà questo lavoro, sembra che alla fine si possa anche arrivare a un certo punto in cui è finito il lavoro, invece c'è sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa che cambia. Torniamo indietro alle slide, sulle slide, appunto quindi la parte principale è poi il sito, dopodiché c'è anche una trasmissione televisiva che va in onda su RTTR da ormai 4 anni e adesso vediamo il nostro spot. Io lo definisco sempre un piccolo miracolo perché a livello locale una trasmissione fatta così bene, così bella era difficile da immaginare, la faccio con Claudio Zancan che è poi il responsabile della produzione che mi segue anche durante le registrazioni e fa il montaggio e niente, pensiamo sempre che ormai con i finanziamenti non ci sia più niente da fare, che a breve tutto finirà, invece per fortuna va avanti. Quindi questa è la seconda branca del progetto. Dopodiché ci sono i progetti editoriali, quindi la guida cartacea. Questa è una guida che adesso tra poco verrà ristampata, siamo alla terza edizione e è una guida che ha avuto molto successo, quindi testimonianza che alle persone piacciono ancora molto i libri, piace molto la parte cartacea, quindi bene il digitale, però sicuramente la cartacea. La carta piace ancora molto. Dopodiché un'altra sezione è l'organizzazione degli eventi, organizziamo moltissimi eventi in tutto il Trentino e soprattutto è conosciuto molto il progetto per quanto riguarda la fiera del Trentino dei bambini, a Trento Fiere. Ogni anno siamo arrivati alla sesta edizione, ogni anno raggiungiamo circa 8-9 mila partecipanti e insomma è un appuntamento diventato ormai fisso e ci piace anche vedere che la gente viene da fuori provincia. E poi il progetto si estende anche per quanto riguarda le consulenze per enti pubblici e enti privati e anche perché appunto mancava proprio una figura di questo tipo. E ha soprattutto una rete che funziona. È una rete che funziona perché c'è, come dire, quando sono partita col progetto pensavo a rendere qualcosa di utile, mi hanno detto tutti quanti, tu hai sempre delle belle idee che però devono essere finanziate in qualche maniera. Però per creare un progetto che funzioni veramente bisogna trovare qualcosa che interessi ai cittadini, che interessi alle persone, che mette in rete un sacco di realtà. E quindi questo effettivamente è uno degli aspetti più interessanti del progetto. L'idea, l'idea come nasce? L'idea nasce nel 2013 perché, come dire, pensavo che la vita fosse lunga per avere un lavoro da ufficio e quindi appunto dopo questo suggerimento di cercare di capire qualcosa che fosse nuovo e che interessasse e che fosse anche proprio semplice a livello di, le classiche idee che dicono tutti, poteva venire in mente anche a me, mi è venuto in mente che appunto mancava in Trentino un portale, un progetto che raccontasse le varie realtà a misura di bambini e famiglie. I risultati. I risultati sono, dopo cinque anni ormai, sono risultati molto soddisfacenti per noi. Infatti il primo risultato su Google, se vengono inserite le parole bambini e Trentino, questi sono i dati riferiti al 2017, quasi 700.000 utenti unici e 1.200.000 sezioni, quindi segno che gli utenti tornano spesso e volentieri per rivedere più spesso il portale. Quasi 3 milioni di visualizzazioni di pagina, che chi appunto nell'ambiente sa che sono molte. Abbiamo oltre 52.000 fan sulla pagina Facebook, è benedetto Facebook perché se non ci fosse stato, sarebbe stato molto complicato raggiungere un pubblico così vasto. Assolutamente. La platea dei genitori immagino vi segue quindi? Certo, assolutamente i genitori, ma la cosa più interessante è, come vedremo poi, che oltre ai genitori trentini, in realtà è un progetto che funziona molto a livello nazionale. Vedremo le percentuali, uno pensa che sia una cosa molto legata al territorio, invece è legata al territorio per quanto riguarda la vetrina, ma invece ha un eco fortissimo, tant'è che la prima regione è la Lombardia che ci segue con il 25% di utenti. E oltre 18 milioni di impressions, che sono praticamente le volte che sono stati visualizzati i nostri post, con quasi 180.000 like, e oltre 10.000 iscritti alla nostra newsletter. Appunto, diciamo, provenienza utenti, abbiamo questo 25% di Milano e provincia, comunque in generale Lombardia, e un 10% di Roma, Trento e Bolzano sommate assieme fanno il 27% circa, e poi insomma tutte le regioni e le province del centro e nord Italia. funziona. Funziona perché ha dei contenuti originali, nel senso che spesso e volentieri quando si parla di marketing del territorio, o comunque di racconta del territorio, si fa copia e incolla. Quindi trovi gli stessi contenuti ripetuti nei siti delle APT, delle Proloco, anche degli enti istituzionali. Invece noi ci siamo mossi, io ho cominciato da sola, e per un anno non ho fatto altro che girare tutto il territorio e andare a raccontare, conoscere le persone, e quindi quando cominci a chiamare per nome i gestori, racconti che la passeggiata dura tot e che quello che si trova è una ristorazione buona, piuttosto che un panorama spettacolare, e poi è tutto vero, gli utenti tendono poi a fidarsi e a ripetere. Appunto le descrizioni sono veritiere e non promozionali, come vedremo noi facciamo delle cose anche a livello promozionale, però spesso e volentieri ci riserviamo la possibilità di dire sì o no rispetto a chi ci chiede di essere promosso. Anche perché poi il pubblico non torna se la descrizione è troppo esageratamente pompata negli aspetti positivi, come dicevi. Esattamente, i siti markettari non funzionano, funzionano per quanto riguarda i grandi numeri, però poi a livello proprio di eco e di risultato reale si vede subito se questa cosa funziona oppure no. Poi abbiamo una forte connessione con la realtà del territorio, infatti, come dire, ci piace anche sempre arrivare un po' per primi sulle notizie, nel senso che quando tu hai tanti contatti alle persone che si fidano di te, che ti raccontano proprio per quanto riguarda questa realtà piccole e grandi, è molto facile poi essere sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico. Interazione con l'utente, noi abbiamo degli utenti molto evoluti, nel senso che anche per quanto riguarda Facebook, non sono sempre lì a mettere like, ma sono utenti che magari preferiscono telefonare, mandare email o comunque commentare, quindi c'è un bel rapporto con loro e è un'interazione ricca e anche questa serve per accrescere il progetto. E poi c'è un taglio giornalistico professionale, troppo spesso per quanto riguarda i blog si vede che le persone si improvvisano, pensano che mettendo insieme un sito internet, raccontando un po' le cose, alla fine il risultato ci sia lo stesso, invece non è così e questo ci viene riconosciuto soprattutto dagli utenti. Chi siamo? Qui è il nucleo fondamentale del progetto perché poi in realtà ci sono un sacco di professionisti che ruotano attorno. A sinistra c'è Manuela che si occupa degli eventi, è la persona che dopo un anno, un anno e mezzo dall'inizio del progetto ha cominciato a lavorare con me, lei ha abbandonato il cosiddetto posto fisso, io ce l'ho un po' questa cosa di posti fissi, delle sfide, dei rischi, perché penso che il web e le nuove tecnologie siano una ricca opportunità, una bella opportunità per chi vuole rischiare, chi vuole inventarsi qualcosa. E quindi lei lo dice sempre, non tornerai mai indietro perché adesso posso fare un lavoro che mi piace, godere del mio tempo, godere dei miei figli, perché poi vedremo la maggior parte delle persone che lavorano con me sono mamme, comunque persone che hanno bambini soprattutto piccoli. Competenza acquisita sul campo quindi. Esattamente, infatti io dico sempre che faccio gli annunci di lavoro al contrario, chiedo sempre che abbiano bambini piccoli, che abbiano voglia di andare in giro, che non abbiano appunto altri impegni e la risposta è ovviamente molto forte. Poi c'è Andrea, che lo vediamo laggiù seduto, lui si occupa più della parte social, si occupa in realtà di un sacco di cose, però è la terza persona che poi è entrata a far parte del progetto e l'abbiamo salvato dal precariato e dallo sfruttamento soprattutto e lui poi ha trovato la sua dimensione, in mezzo a tutte queste donne generalmente non si lamenta più di tanto, quindi mi sembra già un buon risultato. Poi ci sono io e c'è Marina a fianco a me, che tra un mese diventerà mamma per la seconda volta, anche lei ci aiuta nei contenuti e poi c'è Ilaria che si occupa dell'amministrazione e anche lei imparte dei contenuti, anche lei di bimbi piccoli e dice sempre, per fortuna che c'è il 31 di bambini, che mi permette poi di raccontare quello che faccio con loro. Allora, le domande frequenti... Vediamo se me ne anticipi un po'. Speriamo, anche perché non essendoci un polto pubblico, meno male che mi sono fatta qualche domanda almeno. Come si sostiene il progetto? Il progetto si sostiene, allora io dico sempre che non sono molto brava con i soldi, che avessi un taglio molto più commerciale, sarei diventata ricca e probabilmente non lo sarò mai, però per fortuna essendo un progetto che funziona molto bene, ci sono tantissime realtà del territorio, sia private che pubbliche, che ci chiedono di promuovere le loro iniziative e i loro progetti. Poi ci sono le consulenze, c'è la trasmissione televisiva, ci sono un sacco di realtà che poi alla fine ci chiedono la possibilità di costruire delle cose anche nuove insieme a loro. Poi, l'avrebbe potuto fare chiunque? Una cosa che spesso mi dicono è che questa è un'idea banale di quelle che potevano venire in mente a tutti e io dico sempre che solamente qualcuno di pazzo avrebbe potuto mettersi a fare una cosa del genere perché effettivamente anche quando ho cominciato nessuno capiva dove saremmo potuta arrivare, dove saremmo potuti arrivare e quindi secondo me sì e no, nel senso che spesso e volentieri vediamo, soprattutto nei primi anni abbiamo visto delle realtà simili nascere e per fortuna dal nostro punto di vista l'abbiamo vista tutte morire dopo un po' perché non riuscivano ad andare avanti e invece noi appunto passo dopo passo in realtà volendo l'espansione ci sarebbe ancora in maniera più forte però insomma cerchiamo di calibrare un po' i passi ed andare avanti. Poi tornassi indietro di fare istituto, io dico sempre che il mio lavoro è un lusso, è un lusso perché permette di decidere con chi puoi lavorare, permette di decidere come impiegare il tempo, permette di aiutare tantissime realtà piccoline che prima appunto non avevano nessuna visibilità e poi la soddisfazione più bella è quella comunque di girare anche in città piuttosto che fuori e vedere i genitori che dicono sempre per fortuna che c'è il determinati posti da vedere, determinati posti da frequentare effettivamente tendono a essere molto ripetitivi e anche a proporre ai bambini o ai ragazzini delle attività anche molto banali invece noi abbiamo la fortuna di essere in un territorio molto ricco e pieno di iniziative interessanti. E poi siccome si chiude sempre la presentazione con una citazione e questa non c'entra tanto con la partecipazione ma c'entra più con le scelte nella vita e appunto nella vita non bisogna mai rassegnarsi, arrendersi alla mediocrità bensì uscire da quella zona grigia in cui tutta abitudine e rassegnazione passiva. Bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi e ovviamente l'ha detta quella grande donna di Rita Levi Montalcini e quindi io auguro una buona ribellione a tutti. Grazie dell'augurio. Però adesso voglio sentire le domande. Sì prima però darei la precedenza alle domande del pubblico se ce ne sono ovviamente basta mi facciate un segno e vengo con il microfono altrimenti inizio io l'interrogatorio. Va bene, sono pronta. La curiosità maggiore che mi ha dato sentire prima di tutto informandomi su quella che è la vostra realtà e sentendola raccontare anche da te qui ora è il percorso fatto perché penso che sia una delle poche realtà effettivamente consolidate che parte proprio dal web per diventare qualcos'altro. TV, cartaceo, molto spesso nella storia della comunicazione è avvenuto il contrario. Quando hai iniziato comunque il web era già evidentemente in via di sviluppo e hai saputo cogliere il momento. Com'è andata? Sì il web è comunque una buona opportunità per chi non ha grandi budget e io tengo sempre a sottolineare il fatto che non ho mai avuto contributi pubblici e non ho mai vinto nessun bando. Ogni volta che ci sono possibilità di start up sono sempre fuori incredibilmente però effettivamente con mi parlo 800 euro abbiamo fatto il sito all'inizio e poi ha avuto un successo così grande che è stata una naturale evoluzione quella anche della trasmissione televisiva, del libro, proprio perché le persone ci chiedevano questa cosa qui l'emittente televisiva aveva intuito che potesse essere una cosa molto interessante e quindi è stato tutto poi molto naturale. Ok, e invece curiosità sulla questione provenienza. Voi comunque, lo dice il titolo, il Trentino dei bambini, il Trentino Alto Adige dei bambini, avete una connotazione territoriale forte già dal nome. Come spieghi questo fatto che ci siano così tante visite anche da fuori? Ma per fortuna proprio perché ci sono tante persone interessate al Trentino, soprattutto appunto bambini e famiglie però spesso volentieri mi contattano anche i nonni o persone in generale che sono curiose e vogliono capire cosa possono fare qua sul territorio e quindi a me, come dire, c'è una grande soddisfazione perché ovviamente i nostri competitor sono anche i siti privati, i siti pubblici e anche grossi siti pubblici e quindi avere questi risultati qui oppure quando vediamo che da una ricerca Google viene fuori come primo risultato questo è sicuramente, come dire, frutto di tutto il lavoro che è stato fatto. E' comunque quindi un target di turisti, di persone che vengono a visitare il Trentino con figli, con bambini al seguito e quindi vuole informarsi su dove portarli secondo te? Certo, ma soprattutto anche persone del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia Romagna che comunque hanno stimoli nuovi quando leggono di un castello particolare, di qualcosa di particolare da fare, prendono e vengono da noi. Volevo poi concentrarmi un po' di più sulla storia, hai fatto un breve riassunto di come è andata dall'idea alla realizzazione e volevo capire prima di tutto le tempistiche. Dopo quanto tempo è passato dal realizzare una propria passione a quello che poi ora definisci effettivamente un lavoro e non solo per te, anche per altre persone? Ma in realtà io ho mollato tutto quello che stavo facendo prima, tutti gli uffici stampa, lavoravo in camera di commercio, lavoravo al giornale e ho lasciato tutto. A gennaio mi è venuta questa idea, a aprile il sito era online e all'inizio non ci sono stati appunto grandi guadagni, il guadagno più grande era risparmio e quindi è andato bene così e poi piano piano le cose sono andate bene. E questo piano piano si può definire in diversi anni, pochi mesi? No, no, tutti mi dicevano che le start-up o comunque i progetti hanno bisogno di 3-4 anni per... Ok, ti è ridata queste tempistiche? Sì, in realtà dopo due anni già le cose andavano bene e dopo 3-4 anni effettivamente ho visto la svolta che tutti mi dicevano che sarebbe avvenuta. Ottimo. Invece gli anni che verranno, nuovi sviluppi, nuove idee, nuovi progetti in cantiere? Ah, quelli ce ne sono sempre, infatti quando con i miei collaboratori parliamo di nuove cose da fare sono sempre abbastanza terrorizzati perché dicono adesso chissà cosa ci tocca fare, però secondo me adesso l'importante è consolidare appunto il progetto e poi vediamo insomma quello che succede. A livello proprio tecnologico e multimediale, giusto per rimarcare il contesto in cui siamo inseriti, il main della vostra attività è il sito, ma vi sviluppi applicazioni, i social network? Voi siete su Facebook, utilizzate anche gli altri social network? Sì, principalmente Facebook, Instagram, che però come dire non è un grande vicolo per noi di pubblico, nel senso che comunque su Facebook cliccano sui link e vanno effettivamente a vedere, su Instagram molto meno. E' più una vetrina, forse. Sì, infatti, YouTube per noi è una delusione perché probabilmente facciamo dei contenuti vecchi per i giovani che invece sono così legati a YouTube, quindi niente, Twitter men che meno. Niente, insomma, sicuramente i social sono... Speriamo che Facebook regga tutti i contraccolpi che sta avendo adesso. Su questo punto sicuramente vi interrogerete su una possibile evoluzione anche del vostro modo di comunicare. Io penso semplicemente al fatto generazionale che io trentenne utilizzo molto Facebook, quando mi trovo a parlare con dei ventenni Facebook non lo usano, ma usano tantissimo altri social network, YouTube, Instagram soprattutto. Questo cambio generazionale è anche quello che è il vostro target, quindi i genitori, le persone che hanno da relazionarsi con dei bambini. Come lo considerate? Ma per fortuna i genitori che hanno adesso bambini piccoli hanno trenta anni, trentacinque anni, quindi insomma calcoliamo ci saranno almeno venti, trent'anni di comunque di tempo. Stabilità. Esattamente. E poi Facebook non è comunque il nostro ingresso principale, infatti appunto siamo ben posizionati sui motori di ricerca e abbiamo decimila iscritti alla newsletter e quindi insomma vediamo che c'è un forte ingresso anche in generale dal web. Perfetto. Qualche domanda dal pubblico? Non voglio scavare troppo. No, basta. Con i miei temi. Direi che i pochi e buoni che c'erano hanno... Sono troppo buoni, non vogliono metterti in difficoltà. Noi abbiamo ancora qualche minuto a disposizione in realtà, quindi se vuoi sviluppare qualche tema tu, anche magari qualche... sul metodo di lavoro. Andrea fa domanda se c'è in programma anche qualche progetto per gli adulti. Per gli adulti, oltre che per i bambini. Sì, in realtà come direi, la metodologia funziona molto bene, no? È un progetto che effettivamente ha un grande successo proprio per come è stato fatto e quindi a forza di avere persone che ci chiedono di fare le cose, anche raccontare le cose anche per gli adulti, adesso è partito dal progetto del Trentino delle Meraviglie, dove raccontiamo i centri benessere, i ristoranti, gli eventi, le passeggiate più impegnative e quindi toccherà anche per noi continuare questa dura vita e continuare a fare i tester delle cose per i grandi. Beh, quello vi coinvolge ancora di più in prima persona, quindi non è male. Sì, la scelta del target, partire dai bambini, è nata dalla tua passione. Sì, più che altro mi piaceva l'idea di provare a vivere le esperienze appunto con i bambini che conoscevo, con le persone che erano vicino a me e effettivamente era un buon modo per trascorrere il tempo libero e per poi abbinarlo a una professione. Appunto, quello forse... Cioè, volevo capire quanto è stato decisivo il fattore professione nella tua scelta. Potevi partire subito da questo ragionamento sugli adulti, potevi parlare di Trento, città universitaria, le realtà che coinvolgono gli studenti, che ne so, di esempi ce ne sono tanti e hai scelto proprio il Trentino dei Bambini. Sì, perché forse era l'argomento che aveva meno visibilità, no? C'erano tantissime realtà, appunto, molte anche sconosciute e quella era la cosa più interessante da esplorare, ma le sfide poi in realtà sono sempre piaciute. E poi ero già vecchia per fare la vita universitaria e provare a raccontare i concerti, bar e... Certo, no, è un esempio come un altro. E forse quella dei bambini, comunque, al di là dell'età, era più stimolante rispetto a altre fasi della vita. Beh, lasciamoci qua. Aspettiamo, quindi, lasciamo spazio al palco e aspettiamo il prossimo interlocutore, tra l'altro uno dei più attesi di questo festival, di questa Trento Smart City Week, Giuseppe Giulietti. Intanto ricordo nuovamente, quindi, i dettagli, i dettami sulla sicurezza, non lasciare zaini, non lasciare borse, non lasciare pacchi, sospetti, questo si sono premurati di dirlo più e più volte dall'organizzazione. E vi ricordo le due iniziative di partecipazione promosse dalla Fondazione Bruno Kessler, Climb e Tag Cloud, la prima per sfidarci tutti a raggiungere, percorrendo collettivamente, in maniera sostenibile, più di 10.000 chilometri. Lo facciamo virtualmente, ovviamente non possiamo arrivare in Cina percorrendo 10.000 chilometri, ma possiamo farlo attraverso vari mezzi che abbiamo qua, possiamo percorrerlo all'interno delle iniziative della Smart City Week, possiamo anche farlo andando noi muovendoci in città, andando al lavoro, andando a casa questa sera, attraverso le applicazioni che ci sono, per i dettagli, tutte le informazioni, il tendone qua dietro, qua davanti, anzi quello di FPK, dove trovate anche Tag Cloud, Voce ai Cittadini, per esprimere la propria idea attraverso termini, attraverso parole rappresentative di questa Smart City Week, che andranno poi a comporre domenica sera la nuvola di parole che rappresenterà il sentiment di tutta la manifestazione. Grazie a tutti, grazie mille, soprattutto a Silvia Conotter. Grazie mille, grazie mille. Grazie.